Buonissima prestazione per categoria Amateur, Valerio prima, scaldati i motori vedremo se saprà fare meglio, sicuramente conoscendolo ha nella testa i 55 secondi visti da un paio di concorrenti della categoria Amateur, è quello il tempo che ha in testa Valerio nel correre in questo momento, non so il side pass, accende a scappare Charlie ma lo riprende immediatamente, molto bene, deve stare attenti alle penalità, nel correre dei rischi, ma stare attenti a non buttarvi niente, sfiora con il sedere e il cavallo, la palina che rimane supera, ultimi tre ostacoli, 40 secondi, adesso un fuoratempo con il 55, arriva a terra molto bene, c'è il tempo, c'è il tempo per battere tutti i record di giornata, per il gol più veloce, chiude, il cancello, tempo di Valerio, 1, 0, 1, 33 e per corso detto per Valerio